ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un altro episodio dedicato a voi che state guardando ai vostri video ai vostri orologi alle vostre collezioni siamo qua c'erano un 5 un 6 video non ricordo quanti più o meno quando li butto dentro la cartella ci passo sopra il mouse guardo la durata e faccio in modo che sia una mezz'oretta no li butto dentro lì e poi li guardiamo poi se qualcuno lo scarto al volo devo prendere un altro da un'altra cartella a caso e buttarlo dentro è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo quello di guardare i vostri video perché non è sempre un piacere diciamo la verità ogni tanto c'è qualche cosa che lascia un po basiti lascia il tempo che trova d'altronde voi ognuno segue poi la propria linea e io non sono nessuno per dirvi cosa fare però mi metto qua mi siedo sul sul trono e lancio gli anatemi così ci divertiamo un pochino niente di che ci divertiamo un pochino ma intanto guardiamo degli orologi no riusciamo a capire se magari qualche modello nuovo mai visto mi è capitato anche a me di aver scorto degli orologi mai visti prima è un bel esercizio mentale quello di vedere insomma per partecipare lo sapete come fare c'è di sovraimpressione l'email e poi l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo seiko skx da 42 mm col suo bel colore blu e rosso orologio veramente entry level niente di che è che ho anche uscito di produzione ma che ha il suo bel perché anche un bel mattoncino guarda come spesso mamma mia però e se da un diver quando vai al mare con questo cioè acchiappi 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 molto passiamo al primo video cosa dite io dico di sì che sarà meglio ciao davide ciao saluta tutti gli amici del canale saluto sono lauro mi presento la mia collezione vai partiamo da questa ciaffecca perché acquistata su ebay praticamente almeno si presentava così cosa buona è il fondello marcato che è in acciaio tutto il resto un acrocchio è un acrocchio cassa non è in acciaio cromata una cassa fatta non si sa da dove però è pulito è praticamente questo è stato acquistato su ebay fortunatamente una volta arrivato era protetto dalla assicurazione quindi l'ho restituito anzi ho fatto richiesta di rimborso il venditore sapendo cosa era non ha rimborsato subito in cinque minuti e mi ha lasciato anche questo ricordo che dici di averlo preso da ebay ok quindi io presumo vuoi vedere che l'hai preso dall'india perché solitamente dall'india arrivano degli orologi frankenwatch falsi quello che vuoi questo qua come aspetto no come colori il rosso blu è veramente fantasioso e con questa lunetta qua poi così ma vabbè finora avevamo visto come marchi prediletti per questi frankenwatch falsi no citizen orient seiko ok oris fortis ma non me ne vengono in mente altri ma ci sono altri marchi che sui quali anche rado anche rado molto fantasiosi e poi ora scopriamo l'anco se si può inserire quella casistica lì sarebbe la prima volta che vediamo un lanco proveniente da quei paesi lì e solitamente io capisco quando usano queste marche lanco fortis oris perché i vintage di quelle di quei marchi lì li conoscono in pochi no non sono così famosi quindi ti fanno un quadrante di fantasia e te ti sembra di comprarlo bello con l'asso di picche dentro al quadrante no che poi lui ci dovrebbe arrivare anche da solo no uno sembra la tovaglia colorata e lo comprano la gente fa click poi dopo viene a chiedere ma sto qua secondo te è vero o falso è minchia è falso ma ci potevi arrivare o perlomeno chiedilo prima no comunque casistica probabilmente anche l'anco rientrano in questi è bene 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 abbiamo parlato qualcosa che oggi e facciamo sparire subito sparire la cosa buona alla scatola la scatola tra di più sulla vera ma passiamo ora di più serio vai ecco buono bradlin cronoma top bianco su bracciale pilot pilot cavalieri in oro pulsanti e corona in oro incamiciati dovrebbero essere 194 delle ultime produzioni veramente un bel pezzo si è uno di quelli più moderni si vede bel pezzo dopo di che questo qua naturalmente per te davide come per me mettiamo via mandamelo passiamo manda manda olè vai a questo guantini rolex guantini rolex planet ocean top che bello lo voglio non ne vedo molti sul canale solito c'è si master 300 ma sono passati però bello planet ocean mi garbassa bracciale bracciale veramente fatto bene perché segue proprio la forma del polso anche qua di solito non è che vado pazzo per i bracciali degli omegas ah no questo è fatto veramente veramente bene è fatto bene sì cassa da 42 40 effettivamente un 41 buono buono sta molto bene se preferisco questi ecco le nuove se sessi poi poi passiamo pagani design sembrava pagani design o un topino anche cosa quello blu simpatico il classico c'erano tutti da il suo bracciale col suo bracciale volevo vedere se era di un altro poi basta da 39 millimetri sappiamo ma brezzo volentieri bla 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 dopo di che passiamo a questo explorer top rolex explorer 1 36 da 36 millimetri lo porto molto molto volentieri si è molto bene diciamo uno dei rolex che preferiscono senza la finestra data qui che va per meno non piace molto se la misura un po da ladyboy questa però questo del 98 vetro zaffero ma si diciamo che una cosa che mi disturba il fatto che un professionale non abbia gli indici i numeri al buio praticamente non si vede niente è per quello lì e quello lì il scorsino invece il mio da 39 ce l'ha il 36 e il 9 ce li ha con il chroma light dentro hai capito perché dopo il 2016 hanno cominciato a mettercelo e io volevo proprio uno di quegli esemplari dopo 2016 che costano di più però io volevo quelli lì che al buio si vede il 369 ma anche non al buio il 369 che sono in oro bianco e non è che sono in in latta sono in oro bianco però anche di giorno tendono un po a scomparire sul quadrante rimangono agli indici quelli lì con la pasta luminescente il 369 tendono un po a scomparire a me non mi è mai andata giù questa cosa quindi ho sempre detto nel momento in cui prenderò l'explorer lo voglio con il 369 con la pasta luminescente e così ho fatto e comunque ti capisco ma vabbè vabbè da buttalo verso molto mi piace allora vabbè insieme a quegli altri per finire andiamo al pezzo che mi piace di più so che te non sei un amante di questo e questo lo dici te che non sono un amante però a me c'è tanta storia questo qua cos'è un lumino marina panerai diametro questo qui è una serie limitata ne hanno fatti 50 top e vedi qua sul quadrante c'è il nuovo slc bello sarebbe il siluro lenta corsa utilizzato dagli incursori della reggia marina la seconda guerra mondiale qui ci sono i suoi cinturini e poi abbiamo il certificato la pergamena produzione questo è il numero 8 di 50 pezzi scritta a mano da vita prodotte poi un'altra un'altra particolare da questo modello è stato fatto solo per la boutique di portofino addirittura praticamente erano 50 pezzi venduti nella boutique e nel fondello è rappresentato tutta tutto il porto praticamente se il porticciolo con le montagne tutti gli edifici portofino ci sono riportati i pezzi fatti portofino ha capito bello veramente questo è un 44 millimetri 44 carica manuale tuo sporco di nero guardali perde perde la scatola va bene dai silenzio così gli indici i numeri sono color sabbia meno male che ce l'hai detto te se no qualità della colorazione del quadrante promosso questo abbiamo finito meno male saluto a tutti gli amici saluto alla prossima alla prossima ciao ciao ragazzi quando fate un video cercate di avere un po di brio no cioè cercate di dire qualche anche cioè commentare dare la vostra impressione perché più 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 che dire è color sabbia la lancetta è meglio che mi dite perché l'avete comprato con l'orologio di cosa vi ha spinto il perché i motivi quello che c'è dentro di voi non quello che c'è sull'orologio a meno che non sia qualcosa di particolare no comunque dai ce l'abbiamo fatta portare a termine questa carrellata e oserei dire che gli orologi sono tutti di gran botto di gran pregio gran botto quindi a parte la prima cioffecca che è un falso fake che sei rimasto fregato ma questo però ci dice la dice lunga sul fatto che una persona un appassionato che ha panerai che c'è il rolex e c'ha l'omega e c'ha quell'orologino la il tudor e su e giù e poi va a cercare di comprare su ebay un lanco vintage è capito quali poi sei rimasto fregato è un altro discorso però è sintomo sinonimo di passione non è che ha preso quegli orologi perché per farsi bello gli ha presi perché appassionato e lo dimostra il fatto che va a cercare anche le cose più strane vintage vecchie poi se prende la fregatura a si piglia tutti prossimo video ciao david buonasera sono stefano da terni un saluto anche a tutti gli amici del canale ciao e volevo iniziare sottoponendovi la mia raccolta di orologi sperando di non andare anche un po' fuori tema con questi quattro orologi da tasca che voglio far vedere facceli vedere è un veglia un orologetto da tasca degli anni 40 circa semplice niente di che poi passiamo a un luis roscoff anche questo molto preciso questi orologi hanno un loro fascino certo oggi come oggi sono praticamente inutilizzabili però hanno hanno il loro sì così roscoff qua lo sappiamo tutti no come come è veramente un calibro di basso pregio con lo scappamento a cavigliera veramente economici tu dici che è preciso quindi rimango anche sorpreso da questa affermazione e significa che poi o economici non di pregio fatti male tutto quello che vuoi ma poi alla fine sono arrivati i giorni nostri a reggere il tempo tanto di cappello diciamo mercato mercato non mercato hanno il loro interesse collezionistico da parte di molte persone questo invece è un otto giorni la carica di questo orologio dura ben otto giorni anzi forse anche qualche cosina di più stupenda stupenda anche la catenina in argento che sono riuscito a trovare questo è un ricordo dello zio di mia moglie bellissimo mi è venuta a mente una considerazione che non c'entra niente con gli orologi da tasca che esula proprio otto giorni hai detto e io stavo pensando bello otto giorni anche quando usavano solamente gli orologi da tasca hanno nel 1910 sono gli orologi da tasca uno ha perso uno ha un orologio che dura otto otto giorni no quindi invece di caricarlo quotidianamente lo mette lì e lo carica dopo otto giorni ma otto giorni un tempo talmente lungo che ti dimentichi quale il giorno nel quale lo hai caricato no prima di arrivare al settimo l'ottavo di caricarlo quindi secondo me più lunga è la riserva di carica a disposizione e più necessario sarebbe avere un indicatore della riserva di carica come venuta così è proprio una sparata però dopo dopo cinque sei giorni c'è quando l'ho caricato questo ieri l'altro no tre giorni fa quattro giorni fa quanto durerà ancora otto giorni sono tanti invece per assurdo se non hai sai che l'orologio non dura 30 ore cioè un giorno ogni mattina sei obbligato a caricarlo manualmente ti sveglia la mattina lo carichi a fine corsa altrimenti sei costretto a fare così anche con otto giorni e non ha senso no ogni giorno lo carico ma se dura otto giorni va bene allora aspettiamo al settimo lo carico e quando è il settimo capito concetti astratti veramente per ultimo l'orologio da tasca è un perseo degli anni venti per se l'orologio chi veniva dato a i capotreni in dotazione questo no pur essendo marcato fs non ha la non è stato assegnato perché gli assegnati avevano comunque un numero di matricola però ha un suo fascino ma certo un perseo passiamo agli orologi iniziamo con un diciamo un orologio che è stato di mio padre a cui per motivi diciamo affettivi ne sono molto legato questo è un 6 co 5 è una referenza 70 19 50 10 sinceramente non ne ho visti molti in giro non ricordo niente è bello bello perché apparteneva a mio padre è chiaro questo se non sbaglio fu un regalo di mia madre che anche lei purtroppo non ho più per un compleanno di papà all'inizio degli anni 70 quindi parliamo 71 72 poi sempre di mio padre questo orologio gli fu dato dai colleghi quando andò in pensione è un che bellino alcuni siti su alcune ricerche che ho fatto viene identificato come gmt però mio di gmt qui vedo poco alla ghiera gira bidirezionale però per essere un gmt non ha la terza lancetta non interessa almeno interessa un valore affettivo e poi non è non è male come orologio non è bello ha un bel aspetto perché proprio non avevo mai visto ecco si dice no questo orologio qua io non avevo mai visto prima d'ora e secondo me ora sono scoriti un pochino i numeri sulla ghiera secondo me quando era nuovo anche un bel bel fare anche ripristinare forse se non è che ci vuole poi quel tanto fare i numeri sulla ghiera il discorso gmt chiaramente non è un gmt perché il gmt deve avere un calibro gmt con la quarta lancetta indipendente che ti insegna un fuso orario su 24 ore diciamo così però per me anche un orologio così con la ghiera girevole sulle 12 ore che puoi prendere un secondo fuso orario è utile e guarda ti dirò un'assurdità ma secondo me è più semplice da utilizzare immediato no intuitivo un orologio così con solamente la ghiera che la giri metti l'orario che vuoi che un gmt come quello come il brighton gmt che ho io ai numeri a 24 ore che sono scritti dentro la il quadrante io l'altro giorno per fare un c'era il gran premio di formula 1 di austin in texas io volevo sapere l'orario che c'era la quindi ho messo la 24 ore sull'orario di austin texas no così sapevo le prove le 14 slas non vi dico la fatica a leggerlo cioè lo devo togliere dal polso vedere guardare oppure andare a memoria è più intuitivo per assurdo quello lì una volta che sai però l'orario di casa che di giorno sei di giorno di notte perché se i fusi orari sono molto distanti le 12 ore non sono sufficienti a farti capire se è mattina o se è notte mentre se ti sporti di tre quattro cinque sei ore meglio di quello lì non c'è niente cioè metti l'orario sulla sfera delle ore due ore dopo il tuo e al colpo d'occhio sai che ore sono a casa tua nel posto in cui sei secondo me non è da sottovalutare questa cosa poi passiamo all'orologio di mia moglie e abbiamo fatto io e mio figlio per regalo per il suo compleanno in un topino qualche anno che gliel'abbiamo fatto è un date 15 10 quadrante blu è un orologio vintage è un logicamente penso di secondo forse terzo polso però funziona molto bene sta abbastanza diciamo in condizioni accettabili ma sì graffi ci sono ma io tendo a non lucidarli o cose del genere perché comunque lucidarlo lucidare i cinturini o le casse significa a comunque asportare del materiale preferisco da vederli così vissuti questo comunque è un orologio che mi sembra abbastanza carino per una donna ora non bisogna neppure colpevolizzare il concetto di lucidatura di un orologio perché la lucidatura è un'operazione che va fatta che si può fare che ben venga nel senso che dopo un tot di anni una bella lucidata è fatta da professionisti e l'orologio continua a mantenere la sua bellezza no viene ripristinato non è che asporti dei chilogrammi di materiale il fatto della lucidatura è diventato come un fatto negativo nel momento in cui per business c'erano personaggi ci sono personaggi che pur di venderti si parla di rolex no perché quello che si vende così a occhi chiusi prendono un rolex disastrato pieno di graffi di solchi grattugiate tutto quello che ti pare a te spigoli andati via per farlo tornare nuovo e venderlo perché lo vendi subito la rolex allora lo lucidano in quel caso lì per togliere i solchi per togliere per fare gli spigoli nuovamente vai ad asportare del materiale ma tanto quindi togli il solco vai giù di qualche decimo millesimo centesimo per fare lo spigolo allora devi recuperare le superfici che cambia totalmente il design di come era prima no e questo è il lato negativo della lucidatura cioè cercare di ripristinare orologi che sarebbe impossibile ripristinare lucidandoli e poi dire mai lucidato come dire sto qua è stato un cassetta fermo dieci anni quindi guarda è lucido come nuovo no capito è una menzogna è una mezza truffa ok il discorso di lucidare l'orologio invece durante un service è una cosa normale fatta bene anche perché si presume che siano dei micro graffi no nel momento in cui viene a mancare del materiale come dei solchi o delle sbeccature allora lì va riportato il materiale l'acciaio e poi va lucidato è capito ci sono dei professionisti che lo sanno fare poi volevo farvi vedere anche l'ultimo acquisto che ho fatto che è un sector un automatico niente di che niente grosse pretese ma purtroppo io sono un distruttore di orologi se devo urtare un qualche una parte del corpo urto sempre il polso con l'orologio messo purtroppo è così allora per cercare di preservare un pochettino gli altri e per tutti i giorni metto metto questo sempre automatico ma voglio dire carino ma niente di che forse un po troppo grande per il mio polso perché questo è un 43 mm poi ho uno zenith sub da 37 mm che bellino acquistato negli anni 95 96 è lo zenith rainbow se non mi sbaglio diver io ho avuto ho comprato quello del 99 e quello con gli indici triangolari tra pezzo ed ali a differenza di questo e questo qua e ci aveva anche le lancette differenti da questo cioè non c'era la sfera mercedes è il mio ho preferito il mio notevolmente sto qua mi sembra che incassa anche età quelli con la finestra 2 tra il 4 e il 5 incassano il calibro elite il 670 io c'avevo il 670 questo qua chiaramente che è un periodo nel quale zenith si è fatta influenzare dal submariner proprio stilemi pari pari poi quando ci sono le persone che dicono è però anche in zenith e anche gli altri fanno gli orologi uguali e le coppie allora il concetto qual è che ci sono dei marchi dei brand di scappati di casa che nascono appositamente per realizzare copie uno a uno e metterci un altro marchio ok nascono semplicemente con quello scopo di non è che fanno altre cose con quelli poi che siano rolex omega long jean oris fanno veramente le copie uno a uno e quelli sono da condannare poi durante la storia l'arco della storia dell'orologeria tutte le case hanno copiato e si sono ispirate ad altri orologi per alcuni modelli capito come in questo caso zenith eccolo qua ha fatto una copia quasi del submariner no però l'ha fatta tra milioni milioni di orologi con una propria personalità si può dire qualcosa zenith no quindi se una volta ogni tanto cadi di stile così giro il libro e vado avanti capito non è che la condanno non è che copia sempre esce lo rolex mancino verde no gmt e escono già le copie dalla cina così con un altro marchio quello è copiare capito e a un movimento è da 200 28 92 02 e niente anche questo somiglia molto a orologi che già essi abbiamo visto e beh però mi è piaciuto e l'ho comprato va bene questo orologio qui non ha bisogno di presentazione a coli gmt non sappiamo tutti come si presentano come sono mai è quello questo l'ho acquistato nel 2013 quando questi tipi di orologio secondo anzi per la mia per le mie tasche erano con molti sacrifici comunque era un orologio che ho potuto acquistare oggi come oggi con i prezzi non sarei più in grado comunque ho fatto un piccolo investimento allora poi vi volevo ti volevo far vedere questo orologio qui cosa questo è un zenith primero che tu conoscerai modello deluca 2 e questo è io l'ho comprato nel 92 nel 92 quindi questo è un orologio che c'è a 30 anni va che è una meraviglia però se ti devo dire poi nel tempo mi sono un po pentito pentito perché perché somiglia forse un po troppo al daidona non so se perché in quel periodo lì tu mi insegni la zenith forniva i movimenti per rolex daidona senza il datario logicamente con una complicazione in meno però non so se magari presi da da accordi o cose del genere hanno fatto questa cosa molto simile insomma però ciao no accordi no il discorso è che questo qua del 92 l'hai comprato te nel 92 no è già lì pensavo tanti dei nostri spettatori nel 92 non erano nemmeno nati no per dire ha preso nel 92 te l'altro il il diver era del 95 e gli anni 90 erano gli anni che per zenith erano un po di crisi è un po di situazione non tanto rosia si usciva dagli anni 80 92 92 probabilmente l'hanno disegnato nel a fine anni 80 hai capito cosa c'era da fare c'era da cercare di vendere di vendere e di creare del design che fosse convenzionale ecco la parola giusta è convenzionale cioè alla portata degli occhi di tutti cioè fare qualcosa al di fuori no rimaniamo certi canoni che qua bisogna vendere bisogna uscire dalla crisi quello era il discorso poi perché gli assomiglia perché sui subcontatori c'è la minuteria a contrasto perché c'è la ghiera in acciaio poi per il resto ragazzi cioè è un orologio a tre a tre contatori cronografo con tre contatori come tanti altri se diciamo che si ispira un pochino io non lo comprerei te ti sei pentito io non lo comprerei se devo andare su l'usato quello lì non lo comprerei mai proprio mi piace sprizza proprio gusto degli anni 90 che sono ancora troppo vicini per essere considerati vintage ed avere quel quell'aura di romanticismo per il quale il vintage è tutto bello ai 90 e cominciamo essere troppo vicini ma mi è piaciuto piace tuttora lo metto insomma con soddisfazione con soddisfazione niente quando con la scatola ancora la scatola e la garanzia mi è stato fornito anche il cinturino in pelle mai montato però non dai con il cinturino in pelle ciao diciamo una cosa abbastanza piacevole abbastanza ok ti ringrazio di nuovo spero che vi siano piaciuti se un salutone ciao un salutone un salutone sono piaciuti perché sono tutti belli orologi c'è poco da dire poi il fatto che le hai comprati te addirittura nel periodo in cui sono usciti cioè non è che hai preso le hai comprati le hai comprati oggi quelli del 90 le hai presi quando sono usciti quindi ancora più valore poi il discorso del cinturino sì forse un cinturino nero ci sarebbe più che quel marrone lì che veramente anche quelli anni 90 un cinturino spesso no come si dice non mi piace non mi piace è stato interessante che ci ha fatto vedere gli orologi da tasca qualcuno che colleziona orologi da tasca c'è ecco l'abbiamo visto oggi abbiamo avuto l'esempio no la persona che colleziona orologi da tasca chissà che un giorno magari tornino in auge e saremo qua a fare recensioni su recensioni degli orologi da tasca la vedo dura però prossimo video ciao davide un saluto amici del canale saluto questa è la mia piccola collezione partiamo con quarzon quasi edifice in realtà mi piace molto perché leggero molto sottile vetro zaffero quindi da utilizzare tutti i giorni veramente fa la sua fa la sua figura simpatico 5 che non può mai mancare in una collezione ha messo questo cinturino in gomma così per l'uso di tutti i giorni è un po più comodo il cinturino in braccialo originale è un po scadente quindi cambiato primo acquisto serio anche parte di un regalo ricevuto e emilton khaki shield vabbè nulla da dire su questo orologio bellissimo tiene il tempo in una maniera eccezionale comodissimo molto bello e poi l'ultimo acquisto non se ne vedono molti è uno young guns form a in titanio una cassa un po particolare come lavorazione movimento età 28 24 e anche questo tiene il tempo in una maniera impeccabile sono un po indeciso per il prossimo acquisto ho un eco alpinist che sto adocchiando da un po però non so se risparmiare per un acquisto un po più di fascia alta un rado golden horse per esempio uno jean vediamo un po ci penso consigliami anche tu ciao ecco e ciao cosa ti consiglio cioè mi hai detto tre marchi c'è nemmeno un modello che con una tipologia no un rado un longin cioè hai sparato un pochino non hai le idee chiare nemmeno te e io come faccio a consigliarti sulle idee non chiare non c'è verso cioè potrei spaziare all'infinito ad libitum come si suol dire quattro orologi simpatici no carini entry level diciamo parte un guns e Hamilton beh gli orologi che cominciano anche a costare dei soldi a differenza dell'amico di prima che era attempato no lo si evince dal fatto che comprava gli orologi negli anni 90 te dalla voce mi sembra mi sembri giovane quindi abbiamo avuto proprio il due due esempi della trasversalità della passione e degli utenti che guardano i video dal giovane al meno giovane con un ventaglio di orologi che poi va anche ai gusti ma anche in base alla disponibilità economica c'è un ragazzo cosa vuoi che possa avere mai di disponibilità economica deve ancora farsi come si suol dire no quindi piano piano raggiungerà il livello dell'altro amico niente per il consiglio non so cosa dirti compra quello che ti pare che siamo tutti contenti prossimo video ciao davide sono giovano ormai un tuo fan di vecchia data e ci devo mostrarti la mia piccola collezione disegnata e facciola vedere partirei con questo tisso visitate da da 40 mm automatico un orologio che avevo regalato a mio padre per i suoi 70 anni anche se non rientra pienamente nei miei gusti e comunque un orologio che farà parte sempre della mia collezione per il suo chiaro legame effettivo ti mostro poi il mio everyday watch anche questo seiko baby alpinist un orologio che ormai da un paio d'anni sta sempre al mio polso qui non si vede ma ti garantisco che il quadrante alla luce offre dei riflessi veramente particolari è un orologio che indosso volentieri e che vale sicuramente i soldi che ho pagato per acquistarlo se lo garantisci poi a uno dei miei ultimi acquisti che è questo emilton jazz master performer bello questo con questa configurazione placcata ora anche questo molto carino l'unica cosa non capisco la ghiera fissa che non ruota cioè se c'è una ghiera ai miei aspetti che ruoti però non è vero non deve essere così non c'è una regola per cui se c'è una ghiera mi aspetto che ruoti innanzitutto questa non è una ghiera ma è una lunetta una lunetta quando è fissa si chiama lunetta una lunetta cosa cosa fa altro che riportare i minuti dell'orario sulla parte esterna dell'orologio piuttosto che sul quadrante è una licenza poetica che si sono sempre presi dai tempi dei tempi non vedo perché uno appena vede i numeri all'esterno sulla lunetta e va lì per provare a girare questo qua deve girare è un diver deve girare no c'è pieno di orologi che hanno la lunetta fissa con i numeri riportati sulla lunetta stessa è normale anche per facilitare la lettura dell'orario volendo noi 5 10 15 20 minuti non serve per prendere i tempi serve per leggerli i tempi cioè l'orario importante è comunque un orologio tra tutti quelle che mi ricordazione sicuramente il più preciso questa cosa mi mi ha stupito particolarmente io dico sempre però mi prendete per scemo no il ragazzo di prima l'amilton ha detto precisissimo questo qua l'amilton è precisissimo e il fatto è che il powermatic no è l'h10 calibro di di emilton ma anche di ti so di mido e escono dalla fabbrica che sono equilibrati non è che si mettono a regolarli uno per uno ma escono fuori già equilibrati di per sé vengono il bilanciere viene equilibrato asportando parti del bilanciere di metallo infinitesimali utilizzando il laser no e c'è la macchina che finché il bilanciere non è equilibrato come quando si equilibra uno pneumatico ad esempio noi lì ci si mette i piombetti c'è l'omino fa girare ci mette qua gira il bilanciere e con laser asporta i pezzettini di metallo finché il bilanciere non è perfettamente equilibrato poi ci metti tutto il resto che è montato a regola d'arte e ne verrà fuori uno due tre o è tanto per forza che magari non tengono il tempo bene ma sul campo ve lo dico perché a forza di vedere i video di ascoltare le persone lo so è statistica questi orologi escono precisi passiamo poi a un orologio che ho acquistato vedendolo da un tuo video me ne sono innamorato che questo long jean silver arrow che bello top 37 38 mm ora no io ho il librone lì ho il librone del long jean bello così e ieri lo stavo sfogliando appunto ho visto il long jean silver arrow degli anni 60 noi c'è un bracciale in metallo che a un certo punto sembra anche essere elastico veramente una roba incredibile ora sto qua che la riedizione bello anche questo però quello originale al sapore del vintage però però purtroppo non è che posso comprare tutti gli orologi che mi passa sotto mano se no anche sto qua in collezione non farebbe schifo è gioco che io reputo veramente elegante anche se ha una chiara connettazione legata all'aviazione però è un orologio che io mettono nelle situazioni più formali e mi piace indossare oggi anche questo è spettacolare nel viso di esso poi ti mostro il mio ultimo acquisto ultimissimo che ho visto e stravisto tutto dopo per i 58 un orologio per me fantastico e chiaro si dice che è un omaggio del sommare negli anni 50 spero a me non interessa ma sono passata dalla concessionaria l'ho visto ho detto wow ti stai spegnendo piano piano sicuramente tra tutti gli acquisti è quello di cui vado più più fiero e niente la mia collezione termina qui ti anticipavo molto piccola però ci tenevo a mostrartela ti ringrazio per grazie a te azioni e il modo in cui ci illustri questo mondo bellissimo ti saluto saluto ciao 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 non c'è nulla da dire cosa cosa c'è a dire tutti i belli orologi ha mostrato oggi nemmeno una mezza cioffecca ho visto ah sì quel mezzo fake ma non era una cioffecca con era proprio un fake ci vorrebbe una cioffecca per tirarci su il morale comunque niente da dire ottimo orologio ottimi orologi tutti tutti promosso sei promosso dai ciao davide mi ciao davio a catania e con questo video ti volevo presentare la mia collezione di orologi da collezione che nasce circa tre anni fa quando all'inizio del 2020 comprai un orient bambino che adesso non ho più ma parto presentando ti l'orologio del giorno che è un sitese da aqualand orologio che utilizzo fondamentalmente come backup al computer quando vado in immersione infatti pratico allora qui ci abbiamo finalmente ogni tanto un esperto di immersione e di orologi subacquee dai cioè quello che ci può dire le cose come stanno veramente quelli che vanno sotto poi dicono mica l'orologio non serve a niente comprateveli voi no immersioni ricreative mi torna molto utile quando sono sott'acqua devo dire che anche una è molto preciso nella rilevazione della profondità l'ho paragonato al mio computer ed effettivamente si sbaglia di nemmeno dieci centimetri quindi devo dire che è un ottimo backup bene ma subito dopo il signore il bambino decisi subito di buttarmi sui davere quindi presi questo questo esco questo esco ex a cui e per adesso ho montato un cinturino in gomma naturale vulcanizzata e che spesso utilizzo anche col suo giubile orologio che comunque porto anche sott'acqua ogni tanto diciamo che nella mia collezione vedrai soprattutto diver soprattutto perché riesco a utilizzarli sott'acqua è un diciamo mi piace poterli utilizzare per quello per cui sono stati pensati in generale nella mia collezione vedrai pezzi che sono stati creati con una precisa idea dietro quindi in questo caso diver o cronografi o ancora dei filo un flicker dopo questo ho preso diciamo il primo orologio costoso costoso per per i miei standard questo yema superman era il 2020 anche questa in questo caso col tempo insomma gli ho montato di qualsiasi tipo di cinturino ma ho deciso poi di rimanere con questo è un forstner un confit si dice uno dei cinturini che i tempi utilizzavano anche gli astronauti della nasa trovo ci stia benissimo soprattutto per l'area vintage che gli dà e per quanto è morbido poi effettivamente lo lascia molto libero al polso si magari fa sentire di più il peso della cassa sul polso ma lo trovo veramente a livello di stile molto azzeccato per questo orologio a me non piace dopodiché vorrei farti vedere un orologio su cui probabilmente non condividerai sulla scelta del cinturino per questo longin un calibro 30l orologio che adesso vedi in questo modo e che se riuscirò se riuscirò punti condividerò con te o metterò magari qui nel video le le immagini di com'era quando lo presi questo orologio era infatti inizialmente con un quadrante diverso delle sfere differenti e in che il calibro era incassato in una cassa in oro cassa che fu venduta la mia madre in un momento di difficoltà e quindi praticamente mi è rimasto solamente il movimento con delle sfere rovinatissime praticamente arrugginite senza corona perché era rotta e anche il quadrante era totalmente rovinato qualche anno fa decisi di restaurarlo perché volevo dare una seconda possibilità al movimento no non approvo non approvo non approvo non approvo non ci riesco da provare nel senso che di tutto quello che era l'orologio cassa in oro di forma anche diversa lancette quadrante corona niente c'è rimasto solamente il calibro e te hai dal calibro hai messo dei pezzi sopra per creare questo orologio ecco io sinceramente non lo so non lo so ora ragionando anche in senso contrario no bisognerebbe sapere se questi pezzi che hai preso sono isolati presi qua e là oppure è veramente un altro orologio nel quale hai messo il tuo calibro allora quello avrebbe magari un po più senso sarebbe più accettabile ho preso questo orologio c'era il 30 l che non funziona più ci ho messo questo 30 l poi bisogna vedere se i numeri l'hanno hai capito non mi piacciono però in generale questi accrocchi così evidenti cioè pur di salvarlo hai utilizzato il movimento e gli hai messo intorno a tutto quello che ti capitava che può magari anche un senso però no non esiste non è mai uscito dalla fabbrica questo orologio se vogliamo metterla così non so ditemi voi cosa pensate mento sono riuscito a trovare tramite un orologiaio cassa quadrante originale quindi non ristampato delle sfere coede stessa cosa con la corona che chiaramente non è la sua originale ma è comunque una corona marchiata long jean e niente adesso questo è il mio dress watch così se così si può dire e diciamo che mi darà soddisfazione per ancora molto tempo soprattutto mi mi rallegra il fatto di essere riuscito a dargli una seconda possibilità una seconda vita perché sì ma te la seconda possibilità seconda la vita non è data all'orologio è data il calibro è preso quel calibro da quello orologio che era morto e poi c'è fatto non è che una seconda vita non lo so sono un po combattuto se se accettarla o non accettarla non lo so non è che devo sempre decidere tutto io è quel movimento era davvero un peccato lasciarle in un cassetto fondamentalmente da rugginire tornando ai diver di recente ho preso due pezzi entrambi sull'azzurro una passione per il blu particolarmente per il blu bravo questi due scuole 1521 e vulcanatic entrambi due appunto a cui ho montato due cinturini tropic entrambi in gomma naturale vulcanizzata che secondo me insomma è quella che si avvicina di più ai tropic del passato questo non sono riuscito ancora a portarlo in immersione per il semplice fatto che è lucido e siccome in immersione capita spesso di sbattere le braccia con bombole o qualsiasi altra cosa ho onestamente paura di rovinare la cassa ma penso che prima o poi mi farò passare questa paura e lo porterò a fare quello per cui è stato pensato scusami è sempre il solito discorso te devi perché il punto è quello no perché lo devi preservare nella sua lucentezza perché nella tua testa un giorno magari lo vuoi vendere ok allora devi fare così devi decidere che non lo venderai e per aiutarti a decidere che non lo venderai lo utilizzi tutti i giorni in tutte le immersioni che fai sarà pieno di graffi incomincerà a prendere le botte scratch tutto quello che vuoi e da quel momento lì direi non posso vendere questo perché non posso proporre una persona un orologio così rovinato tra virgolette no e quindi da quel momento lì in poi rimarrà con te per sempre devi fare questa decisione così è uno squale cavoli quale miglior marchio deputato per essere per accompagnarti nelle immersioni io otterrei quell'orologio lì non lo venderei mai no con questo invece ci faccio dello snorkeling è una cosa che mi piace fare quando posso visto che vivo in sicilia nella possibilità lo utilizzo anche per questo anche se poi un orologio che effettivamente molto versatile perché è possibile col giusto cinturino è possibile utilizzarlo su una camicia al mare diciamo che riesce ad accoppiarlo molto più facilmente molto meno evidente di un diver di come lo squale ma allo stesso tempo riesce a dare diciamo molto grande soddisfazione in diversi contesti certo è l'ultimo arrivato per quest'anno come diver questo qui è un doxa sub 300 preso da pochissimo l'unico orologio a cui non so se riuscirò a cambiare il cinturino l'ho provato con un tropic ma obiettivamente niente batte il suo chicchi di riso penso che lo terrò così al momento non ho me lo sto potendo anche lui non so se portarlo in immersione proprio per i suoi dettagli lucidi però alla fine dei conti sono uno che gli orologi li usa non li colleziona per il semplice gusto di collezionarli quindi penso che prima o poi lo sfizio me lo toglierò adesso passo ad orologi di categoria differente parto da orologi pensati diciamo per il volo questo è uno degli orologi che comprai il primo durante il primo anno di collezione un sego cosiddetto flight master vediamo se riesco a metterlo a fuoco qua un quarzo orologio che ai tempi mi attirò molto per il fatto di avere un quadrante molto complicato molto pieno di informazioni con cui era possibile fare tantissime cose che per ultimamente secondo me non riceve l'amore che merita l'amore diciamo che è bello ma non balla infatti è uno l'unico orologio che al momento sto pensando di di vendere non so ancora se lo farò perché diciamo che l'unico motivo che mi blocco il fatto che non sia più in produzione quindi se un domani mi venisse voglia di averlo di nuovo sarebbe difficile trovarlo e quattro specialmente trovarlo a che prezzo poi ma vedremo per adesso ce l'ho ma ci ragionerò ancora su ragioniamoci mentre l'anno scorso per il mio compleanno decisi di regararmi questo un laco adesso non ricordo più il modello di quei lago che sono totalmente personalizzabili credo si chiami stuttgart pro con cassa sabbiata movimento sellita top grade senza logo della casa volutamente automatico da 40 mm so che le dimensioni il fatto di essere automatico insomma non deviano un po dal da quello che era l'obiettivo di questo di questo genere di orologi però obiettivamente avevo bisogno di un orologio che fosse comodo e affidabile che soprattutto non avessi bisogno di essere ricaricato ogni mattina tant'è che questo ha pure 200 metri di impermeabilità 200 mi piaceva più lo stile più che il concetto di per sé di di flieger infatti non a parte fatto che un polso anche da 16 centimetri e mezzo quindi non enorme ma un 50 mm sul polso non l'avrei mai potuto portare per cui ho deciso di prendere questo e devo dire che lo trovo bene un polso ma è un orologio che ho diritto soprattutto in autunno in inverno diciamo che non è adatto all'estate così come gli altri orologi in collezione bravo poi basta un orologio un po meno visto un fortis carino questo è un fortis cosmonaut e mania con un in cassone le mania 51 00 orologio che mi ha mi ha sempre attratto per il fatto di essere utilizzato nelle missioni nelle missioni spaziali molto preciso molto affidabile diciamo che anche se il calibro che in cassa 6 minuti ha bisogno di poca manutenzione per il calibro questo calibro qua praticamente alla particolarità di avere i secondi cronografici nella lancetta grande centrale e anche i minuti cronografici cioè ci sono due lancette quindi quando fa un giro di 60 secondi la lancetta crono la lancetta dei minuti va avanti di uno e secondo me questo qua è veramente il miglior sistema per poter tenere un tempo di minuti e secondi cronografico cioè ad un certo punto avrete quella che la lancetta dei minuti che vi indica 10 e secondi che vanno avanti 10 e 40 secondi passati dall'evento veramente interessante come quel che fa e poi non so c'è qualcosa anche nel colore delle sfere che mi è sempre attratto questo arancione in contrasto con il nero le rende molto visibili il calibro le mania poi è molto particolare per il fatto di segnalare i minuti non con un quadrante apposito ma appunto con una lancetta che a questo in questo momento è sovrapposto a quella dei secondi e di fi è un orologio molto poco comune ma in generale tutti quelli della mia collezione a parte insomma quelli meno cari sono orologi che si vedono poco però diciamo anche questo questo qua c'è cosa c'è di bello che è completamente opaco lo vedete non è satinato proprio tutto opaco opaco veramente quell'acciaio che si dà l'idea di essere messo lì per essere utilizzato come attrezzo è bello opaco così è bello anche quadrante opaco nero che assorbe la luce veramente militare tool watch come deve fortis fortis io la comuno un pochino asine perno mi dà molte soddisfazioni d'estate seppur con i con i suoi con i suoi pulsanti a abitati insomma non preferisco non portarlo in acqua e non rischiare bello e in ultimo un pezzo che ho preso anche questo l'anno scorso anart un anart un pioneer un mark 1 mamma mia con un calibro che dovrebbe essere un un ball ju 77 53 modificato modificato perché vorrebbe emulare il calibro 40 di anart rilasciato alla fine degli anni 30 38 se non sbaglio anche questo non riesco a metterlo a fuoco e che fondamentalmente può essere operato con un unico pulsante quindi con tutta la parte cronografica azionata da questo pulsante qui un 40 mm abbastanza spesso chicciotto a cui ho montato questo cinturino in pelle sempre stile flicker proprio perché volevo insomma cambiare il suo che secondo me troppo corto e poi nero su nero insomma non era non era il massimo per i miei gusti in questo modo se non altro spezzo il colore del quadrante anche se comunque sono uno che cambia spesso i cinturini per esempio qui ho preso il suo in acciaio sempre della casa che non è insomma il cinturino adatta a un orologio pensato per il volo ma che tutto sommato ci sta bene ma in generale anche per esempio per l'ex kx questo è un cinturino che ho preso un bonetto solamente per l'odore lo metterei tutti i giorni ma sono uno che come vede come hai visto penso insomma a l'abitudine di cambiare tantissimo i cinturini dei suoi orologi come testimoni anche questo cinturino giallo preso appunto proprio per per essere comodo sott'acqua con questo è tutto è tutto spero insomma che la mia collezione collezione ti sia gradita e fammi sapere cosa ne pensi e ci faccio sapere cosa ne penso l'ho già detto è seduta stante cioè durante lo svolgimento del video il bello è come dici tu che hai orologi tutti che si potrebbero considerare tool watch perché anche flieger e cronografo fortis cosmonaut sono tutti orologi che hanno uno realizzati per uno scopo preciso non per essere un abbellimento del polso diver flieger cronografi una bella collezione con dei marchi che non si vedono spesso sul canale mi viene in mente il fortis lì che l'ho elogiato perché è da elogiare mi piacerebbe tanto averne per le mani più spesso e qua la frecciatina l'amico giacomo piglia e fortis che meno li guardiamo per bene an art anche an art costano gli an art costano però sono belli sono un po monotematici vanno tutti verso non è che ti puoi comprare un an art elegante un dress watch an art sono monotematici sul militare però qualità storia e sostanza ciccia niente però sono tutti meglio roloci continua a fare le immersioni con gli skin diver e con i squale per andare giù mettetelo lo squale boh mi sembra di aver detto tutto dai vi ringrazio per aver guardato il video con me per essere arrivati fino qua se ce l'avete fatta se non ce l'avete fatta non ascolterete mai queste parole quindi non vi beccherete il ringraziamento vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie per aver guardato il video